E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Tomb Raider 4 Oggi finalmente siamo sul 14esimo livello se non erro, ovvero rovine costiere, non mi ricordo mai sto titolo bene E è un livello un po' speciale per me, perché diciamo che insomma Tomb Raider 4 per me è questo livello Da piccolo ci passavo ore ed ore quando arrivavo qui E per un livello così speciale non potevo non portare ospiti speciali Quindi oggi con me non sono solo ma c'è il trio più famoso di Youtube Ehi Noi Grazie ragazzi Grazie Grazie Ultimate Ciao Mi tratterranno loro eh Io farò solo il livello, starò zitto tutto il tempo Ah Quindi a noi la parola A voi la parola Parlerà soprattutto Terni Presentiamoci no? Presentatevi sì Io sono Emma Raider Ho un canale su Youtube giustamente Dove Facciamo Faccio più che altro Giochiamo a Tomb Raider Facciamo livelli custom E ci divertiamo tutti insieme E con me abbiamo Flavia Ciao Cosa fa Flavia? Io sono semplicemente amante come voi e tanti di Tomb Raider È una grandissima anche organizzatrice Diciamo riesce sempre a trovare il modo per farci stare insieme Per unire le idee Per organizzare tutto E poi c'è anche Danny Miau 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 Danny Danny sarebbe più il Come si può dire? Il tecnico Il nerd Il guru Il guru Il guru Il guru Fermi che qua mi ammazzo già Incallito Vai La zona mi ha un'ansia Vuole ricordare questa stanza voi? Sì Praticamente vabbè c'è sto specchio che fa vedere quello che in realtà ci sarebbe dove c'è Lara Quindi dove ci sono le trappole Esatto E abbiamo appena preso la balestra Ah ok Questa balestra qua Quanto è bella No allora è bella perché fa esplodere però Esatto Quando c'è il mirino Ma qua non c'è la Desert Eagle No c'è la Revolver più tardi però Attendo Lara Lara Non dare la colpa a Lara Ma vedi che mi ha selezionato le munizioni Avevo messo le munizioni esplosive Ma perché? Adesso se muoio è colpa sua eh Forse è colpa sua Se ne fai esplosere più di uno Wow Non la sapevo questa Un colpo? Neanch'io Ma dai Questa è una grande furbata ragazzi Sì per forza C'è sempre da scoprire Io diventavo matto a sparare uno a uno No ma anche perché non c'è abbastanza tempo? Cioè è morte sicura? Se lo sai Facciamo così Io la facevo a mano E ci riuscivo Eh vabbè Non avevamo più Danny Sì Super Danny Cioè sono morto 40 volte Però sì dopo un po' Ah Sì perché la trapdoor poi quella Si disattiva Sì si attiva Dunque è bella la tua spara di questo titolo Loro sono dei bull Oddio non so se ho selezionato bene Sì Ok speriamo Dei builder O dei bull Come si pronuncia bene? Builder Builder Scusate 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 Mi rinnovo come sempre La cosa di andare a vedere il canale di Manu Che fa live tutti i giorni Quindi va ricompensato Dai ci mette un sacco di impegno Grazie E poi Sì diciamo giusto per dire Faccio live dal lunedì al giovedì Dalle nove e mezza E ogni giorno porto un contenuto diverso Sempre Tomb Raider Però diciamo Facciamo il lunedì il custom level Il martedì facciamo i livelli da incubo Che sono dei piccoli livelli Che scarichiamo dal sito trl.net Dove praticamente vado a scaricare i livelli Con le valutazioni pubbasse Così per divertirci e vedere cosa Altri builder hanno creato Poi il mercoledì facciamo Tomb Raider 3 E ci stiamo impegnando a prendere tutti i segreti Per sbloccare il livello quello della cattedrale E poi diciamo che il giovedì è un po' più sbarazzino Perché facciamo multiplayer Do anche la possibilità agli iscritti di giocare insieme a me E via dicendo E poi vabbè Se volete seguirmi scoprirete altre cosette Che stanno per arrivare nei prossimi giorni Sì sì Andateci Vi lascio come al solito il link Nell'info box Quindi Io ti ringrazio Ale Per questa opportunità che mi dai Grazie a voi che ci siete In questo episodio Poi ovviamente se Vogliamo registrarne altri insieme Mi fa solo che piacere Ma poi ti invito anche In tutto ciò mi sono perso Ecco Vedi noi non stiamo parlando Lo stiamo distraendo Però ti invito A entrare anche tu in una mia live Perché ancora non l'hai fatto Esatto Sarei volentieri Va bene Va benissimo Può giocare con noi Multiplayer giovedì Anche Ah ok Sì vedo Vedete un attimo Dire come si fa Perché non ne ho la più palida idea Là lascio lo scettro a Danny Per questo Eh sì 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 Te lo spiegherà Sì sì Io non voglio sapere niente Ma non è complicato Tranquillo Ok Allora se ci sono riuscito io Ci possono riuscire tutti Ci abbiamo messo 5 minuti con Iapo Quindi Ah vabbè dai Allora è facile Ma si possono fare tutti Tomb Raider? Eh no No Cioè Quali? Allora c'è quello per Tomb Raider 3 Che è quello che usiamo noi Quindi tutti i livelli di Tomb Raider 3 si possono usare Ah figo E Tomb Raider 2 invece è un po' più complicato Perché Si può comunque E col 4 invece è quello che dà più problemi Perché crasha Molte volte Però si può provare Possiamo provarci comunque Sì dai Non è male come 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 idea Comunque Flavia questa è l'ambientazione perfetta per te Tieni È per te questo filmatino Oh Dio Che cosa vedo Ma è stupendo È troppo suggestiva Spettacolare Mamma mia Bello ragazzi Molto bello Ragazzi io non l'avevo mai visto questo Ma dai Ma davvero bravo Ma io Last Revelation ho giocato i primi livelli Solo Tanto porteremo anche questo Eh bravo Non ti preoccupare che appena recupero il PC Mi faccio scaricare tutti i Tomb Raider possibili Me li fate scaricare o me li scaricate Sì sì ma te li passiamo Tanto bene o male ci abbiamo tutti noi Esatto E poi dovrei giocare ai Gold Perché i Gold sono una piccola chicca Eh i Gold mi mancano Che poi se non sbaglio c'è pure del 4 Esatto c'è un solo livello però del 4 Però vale la pena farlo perché è molto bello A me è piaciuto tanto Sì sì È piccolo come il livello Però è un piccolo gioiellino Così diciamo che Non era nel gioco L'hanno È una cosa in più Che hanno voluto fare Sai una pecca di Tomb Raider 4 Che non mi è proprio andata giù È che Il finale Vabbè Forse Flavian Non se lo ricorda Però Non so se poi due Ah ma non è triste Eh ma al di là di quello Cioè poi C'è Angel of Darkness Che in teoria È il continuo no? Eh sì Perché comunque ci sono parecchi riferimenti Lara devi salire Maledizione alla corrente Là non sa Ah sale Sì sì c'è la corrente però Ma che tessi che ti prende le pistole Sì è un peccato Non si sa poi Cioè si rivede poi Nell'Angel of Darkness Così dal nulla Non si sa come si ha fatto Ha fatto salvarsi Però Guarda Sì ok Spunta così Però sinceramente Io ero Ero troppo contento Che comunque lei c'era Era ancora viva Beh sì assolutamente Cioè Vederla là mi veniva quasi da piange Perché se no Finita lei Morta lei Sarebbe finita Non Non mi spoilerate La fine del 4 Perché io non l'ho mai visto La fine del 4 Ma chissà se ci arriveremo Sì Bello sto pezzo Me lo ricordo Bello quello scheletro che è caduto Ah è caduto Ah grazie Uno in meno Fantastico È vero È vero Strano sì È la prima volta che mi capita Vedi Vedi Che ci dobbiamo essere noi Mi portare fortuna Portiamo sfiga agli scheletri noi Diciamo che La storia Che Lara Si salva da Nel 6 Cioè nel 4 C'è Ma non l'hanno mai detta Dove si trova? Cioè non c'è nulla di ufficiale però Eh no Teoricamente è ufficiale Perché Tita Croft Non so se la conoscete Tombaider Italia Quale? Aspetta Il gestito da Ilaria Croft Mi sembra Ah No 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 Da Ilaria No Daniela Si chiama Daniela Ray Però Ok Tita Tita Croft Si Ah Lei ha fatto un Ha testato un livello mio Si si Ecco È praticamente Lei ha fatto Tipo tre live Dove Dove spiegava tutte le cose Che sono state eliminate Da Tombaider 6 Ma No vedi Ah non lo sa Poi vado a informare Comunque piccola informazione Adesso stiamo entrando nel prossimo livello Che Sono le catacombe Bellissimo Vedi Flavia Come ti dicevo Si entra e si esce dai livelli Qua Io mi sento Sì sono tutti interconnessi Eh Pure sott'acqua C'è un punto che ritorni indietro Oddio Eh sì Comunque azioniamo un attimo Quell'interruttore E poi torniamo all'altro livello Ah così Eh sì Perché Per forza Ma che bella inquadratura di Lara Manu Manu Eh vabbè Ragazzi Sì si siete maschietti Lo sappiamo Lo so Ma chissà perché andava così tanto sto gioco Chi lo sa Eh Avevano pure sbagliato Eh questa la so Nel fare il modello di Lara Sì Sì Cioè Come cioè Non la sai Dai Questa è una leggenda Questa è una bellissima leggenda No Te la facciamo raccontare a Danny Dai Sì fai No 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 Fai tu Manu Io Vabbè C'è Leri però perché sta per finire il livello Deve essere il creatore di Lara Croft Ok Quando la stava modellando al pc Casualmente col mouse È andato un po' più Diciamo fuori schermo E ha ingrandito 150 volte di più Madonna E diciamo l'ha fatto presente a tutta la compagnia Tutti i collaboratori e sono rimasti abbastanza entusiasti e hanno riso di questa cosa Tanto che l'hanno lasciata così Quindi se Lara ha questa questa questo prorompente seno è per via di uno sbaglio Ma vedi No lo sapevo sta cosa Ah vedi Eh non aspetta Sì sono delle informazioni simpatiche per i fan Si smette mai di imparare con voi Capito Noi parliamo spesso di queste cosette Figo Comunque una cosa che E poi lei in realtà il suo vero nome doveva essere Laura Cruz Questa la sapevo Questa la sapevo E come hanno trovato il suo nome? Vediamo se lo sapevi Questo non lo so Io no No Hanno sfogliato l'elenco telefonico britannico E hanno trovato una Lara Croft No E hanno pensato che era spettacolare come nome e hanno tenuto quello Mamma mia Quindi esiste veramente Lara Croft Una Lara Croft? Esiste? Sì Sì Sarà C'avrà tipo 70 anni Però c'è È reale Cerchiamola Oh la dobbiamo cercare Eh Falla entrare in live ma Dare un braccio Per una cosa così Eh Come no Se dai un braccio come fai a fare i livelli no? Eh ragione Anche questo è vero È vero Sì infatti Dunque è quasi finito il livello eh Ci dirigiamo verso la fine Sì ve l'ho detto Sì ve l'ho detto questo non è lunghissimo Fammi accendere il flerro perché sennò Flavia si lamenta che è troppo buio Eh sì pure io eh Eh insomma Sì Che poi dico perché li hanno fatti verdi? Verdi ci sta un po' male non lo so Sì vero Io li avrei fatti più arancionati Ah è come se non sono tutto ombre Esatto Infatti perché verdi? Boh Così Ma che è la spada dei Eh La spada laser dei Come si chiama? Degli jeti No è verde come Verde la spada laser degli jeti Ragazzi ma io sono ferrata su queste cose Ma che qui Non sono ferratissima sui videogiochi Ma sui film Sulle saghe Danny ma se salto senza rincorsa Ce la faccio o cado? Ce la fai Ce la fai Ce la fai Vai vai Puoi anche fare un tuffo Mi sono finito Se schiattavo male Era colpa nostra Sì Beh c'hai la scusa dai Esatto Stavolta ho la scusa Comunque noto delle texture un po' strane Ho notato Non so se hai visto Danny Messe male Testotti Ah oddio capita Sì qualche volta Vedi anche quelli originali Non sono perfetti Eh ma perché non avevano il correttore Che ora c'ha E gli avete detto Eh ragazzi siete fortunati Oggi avete tutto Travolo vero Comunque ragazzi il livello È finito Preve ma intenso Perché qua inizia il nostro amatissimo catacombe Che non voglio fare assolutamente No Quindi finisce qui Quindi finisce qui l'episodio Io vi ringrazio ancora ragazzi Grazie a te Grazie Grazie a te Ale È stato un piacere È stato davvero un piacere Anche per me Complimenti per la run Grazie Infatti impeccabile Grazie ragazzi Io avrei fatto disattori Dai No Qui ci sto vivendo Va bene Chiudiamo qui l'episodio E ci vediamo al prossimo episodio Alla prossima Ciao a tutti Ciao 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 Ciao